Ancora Plata dalla bandierina Il cross, palla che passa! La deviazione sotto porta di Allen che porta avanti il Real Salt Lake 1-0 al minuto 18 Inter qui sfortunata non tocca Olave con doppia regala un assist ad Allen che non può sbagliare anche perché la palla gli finisce addosso 1-0 a Real Salt Lake Miranda non cedendo l'angolo numero 3 all'Inter Erkin in mezzo c'è Icardi pallone sul secondo palo la girata e gol di D'Ambrosio per l'1-1 è un grande gol quello di D'Ambrosio al minuto 42 l'Inter trova Ilepari si stacca si stacca D'Ambrosio arriva da dietro Garcia è preoccupato soprattutto di limitare Miranda può fare nulla sulla linea di porta il giocatore della real è D'Ambrosio fa 1-1 a base fitness underneath their belt for a very difficult season in Serie A all'interno Schuller back, Jovatic, Jovatic, backheel, not makes for the hit as it scores, and in the 92nd and probably final minute Inter Milan, takes a 2-1 lead on a quality goal. You remember what I was saying about Steven Jovatic, 26-year-old Montenegro international. It's a ball up over the top, he brings it over well, and how many players in the world not only think about this, but can execute? I mean, listen, skill versus